Ground Zero 2015 come Assisi 1986. Papa Francesco a New York, come San Giovanni Palo II nella città del poverello, ha invitato i rappresentanti delle grandi religioni mondiali a pregare in silenzio, ciascuno nella sua maniera ma insieme, per chiedere al cielo il dono di impegnarci per la causa della pace. Prima del suo intervento ha pronunciato una preghiera al Dio della pace, chiedendogli di portare la sua pace al nostro mondo violento. A seguire le meditazioni dei rappresentanti hindù, buddisti, Sikh, ortodosso ed evangelico, musulmani e un canto ebraico. Se sapremo bandire i nostri sentimenti di odio e di vendetta, ha proseguito Papa Francesco, saremo profeti di ricostruzione e riconciliazione, perché nelle differenze è possibile vivere in un mondo di pace, dicendo no ad ogni tentativo uniformante e sì ad una differenza accettata e riconciliata. Il pontefice ha descritto il memoriale di Ground Zero, un luogo in cui piangiamo il dolore del sentire l'impotenza di fronte all'ingiustizia, di fronte all'incapacità di risolvere le nostre differenze dialogando. Ma nel volto dei familiari dei primi soccorritori caduti in servizio, incontrati prima di scendere nella Foundation Hall, il Papa ha raccontato di aver visto, accanto al dolore, la potenza dell'amore e del ricordo. Perché sono stati capaci di bontà eroica, di mostrare la potente solidarietà dell'aiuto reciproco, del sacrificio personale. Salvando la vita di tanti altri, questi soccorritori hanno trasformato questo luogo in luogo di vite salvate, perché la vita è sempre destinata a trionfare sui profeti della distruzione e il bene avrà sempre la meglio sul male. Prima dell'incontro il Papa si era raccolto in preghiera nella 9-11 Memorial Plaza, davanti ad una delle fontane realizzate sul luogo dove sorgevano le torri gemelle, sul cui parapetto sono incisi i nomi di tutte le vittime. Grazie a tutti. Grazie a tutti.